Tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. Sono queste le ultime novità in merito alle indagini effettuate dalla Polizia Locale di Ravenna nella Casa Famiglia Peranziani, Villa Cesarea. Nel corso delle verifiche effettuate congiuntamente col nucleo investigativo dei carabinieri, sono emersi elementi che hanno permesso alla Procura della Repubblica di richiedere e ottenere dal GIP, con due distinti provvedimenti, tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. Sono state così arrestate tre persone, si tratta del gestore della struttura e di due collaboratrici gravemente indiziate di maltrattamenti a danno degli anziani ospiti della Casa Famiglia. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, era stata già arrestata una 47enne badante rumena accusata di avere maltrattato un 94enne ospite della struttura. L'anziano si sarebbe rifiutato di sottoporsi alle pratiche di igiene personale e la donna lo avrebbe umiliato, costringendola ad ingerire le proprie feci. La vicenda era stata portata alla luce da una collega che avrebbe segnalato la situazione alla municipale. La Casa Famiglia è stata chiusa in via amministrativa e gli ospiti sono stati ricollocati in altre strutture.